Bella a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro Joker, siamo tornati signori di nuovo su Clash Royale Quindi buongiorno signori perché sono le 11 di mattina Allora raga, siamo qua appunto per fare sempre la serie quella del deck dell'iscritto Oggi anche vi voglio portare quella serie Perché sono qua raga? Perché mi avete consigliato un'altra Cioè mi avete consigliato raga miliardi di deck, cioè veramente miliardi Quindi oggi ne andiamo a provare uno che mi ha detto il Joker, questo è il deck Spaccaguli Quindi raga lo sono andato a prendere Allora, ci ha detto di prendere il boscaiolo Insieme agli arcieri, frecce, bombarolo, domatore, gobbi di arcieri, orde di scheritri E mi ha detto anche di mettere il golem di ghiaccio Raga io non ho mai, mai utilizzato né il boscaiolo e né il golem di ghiaccio Quindi non so questo deck come funzionerà Però ragazzoli ci proverò tantissimo Questa serie prendete la ride, non mettete il Joker, non sei bravo, non sei, non me ne frega Un cazzo signori, sono qui per divertirmi Se volete vedere gente più professionale a giocare andate sul canale di mio fratello Sul canale e vedete lui Io qui sto per divertirmi e per provare i deck che voi mi consigliate Non mi frega un cazzo se perdo Questo lo voglio ben dire Allora miglioriamo intanto il boscaiolo a livello 2 Vediamo se possiamo ancora potenziarlo No, ci manca poco per potenziarlo Sì altre due carte Che cazzo ho fatto? Livello 11 addirittura Grazie mille, siamo arrivati al livello 11 Mamma mia Possiamo migliorare anche appunto la carta del golem di ghiaccio Che non ho mai, mai utilizzato La portiamo al livello 8 Basta, al livello 8 la diamo così Andiamoci a fare queste partite e vediamo un attimino quello che riusciamo a combinare Addirittura troviamo anche una carta epica Siamo a 3114 coppa ragazzi Perché con il deck che mi aveva fatto appunto mio fratello mi stavo trovando molto bene Poi non ho più giocato Quindi proviamo adesso questo deck che mi ha consigliato questo ragazzo Allora come prima cosa io farei Qui così So che il boscaiolo ragazzi se va sotto torre è devastante Ma veramente devastante Voglio provare a fare una cosa 4 e 4 e 8 ragazzi faccio così Vediamo un attimino quello che riusciamo a fare Non lo so signori eh Ma se questo arriva là sotto so Cazzo pure quando muore fa danni Questo abbassa Ragazzi muovii calcolare perché mi ha detto male Però il Per quanto riguarda appunto Come stavo dicendo Per quanto riguarda il Allora mettiamo questo così E mettiamo queste così Vi dicevo scusate Per quanto riguarda il boscaiolo Il boscaiolo Quello basta ragazzi che arriva praticamente Un minimo Ma un minimo sotto torre Da 3-4 botte E massacra tutti ragazzi Ma veramente Li massacra in un modo incredibile Io mi ci devo prendere veramente Tanto la mano non è una scusa ragazzi Perché non è una scusa però Voglio appunto capire un attimino Come gestire al meglio Una bombetta L'ha lanciata Una bombetta Vedi che bravo L'ha lanciata Vai Arceri a rompere le balle Gobbi lanceri pure a rompere le balle dietro Via via Leviamo delle balle questo drago qua Che non ci interessa Allora Vediamo un attimo come gestire Sta situazione ragazzi Mettere sempre Questo E domatore Vai ci proviamo Ci proviamo ragazzi eh Usiamo le frecce Che ci danno fastidio Quelle ok Vai vai Picchia 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 Bello Mamma mia Bello come il sole Regà Quante botte gli ha tirato Eh questo mo' ci fa cazzo Male proprio Il gol di Michiaccio Regà vi ripeto Non so che Che uso ha Ma no questo mi sa che attacca solo No eh Regà lo sto provando Perché quello attacca solamente Le torri Le difese Qua roba là Non fanno niente di Di spettacolare Quindi Probabilmente stiamo Una torre per uno Perché anche io Questa ragazzi Di parenti Gliela dovrò buttare giù E penso proprio che Adesso Tipo faccio così Quella dovrebbe arrivare Sotto torre Dovrebbe arrivare Sotto torre Sì ci arriva tranquillamente Perfetto Abbiamo una torre ciascuno Non fa male a nessuno Quindi non fare l'egoista E batta la In saccoccia Allora facciamo di questo Facciamo di No facciamo di questo Aspettiamo un attimo Mettiamo il questo Vado a lanciare Un paio di frecce Che qui fanno Un po' di danno Ma poche niente Ragazzi In mazza Questo Ci sfonda proprio Lanno In un modo incredibile Vai di boscaiolo Che ha preso La persona più sbagliata Nel mondo Ragazzi Questa Ce la siamo giocata Anche questa male Ragazzi Ce la siamo giocata male Però pazienza L'importante è provare E vedere quello Che riusciamo a fare E siamo andati Veramente molto male Molto male Comunque Primo Primo round L'abbiamo stra perso Ragazzuoli Diciamo che Non dico non fa niente Perché comunque Perdi sempre le coppe Però sti cazzi Lo sto provando E vediamo un attimino Primo round Perso Anzi prima partita persa No primo round Però una torre La soddisfazione Ce l'ho avuta Dai Voglio riprovare Riproviamo Facciamo sempre le classiche Tre partite Your mom Bush Eh vabbè Sono di cinese E siamo tutti contenti Vediamo un attimo Questo come possiamo fare Se noi mettiamo Ci serve Questi domatori Secondo me sono la tattica perfetta Proprio Quindi mettiamo Arcelli qui dietro Ok Arcella Voglio buttare Guarda Il golem Ok Così loro Se la prendono con il golem Vai col bombarolo Mettiamo questi Minchia Che dolore Assai Doloroso Proprio Questa Se lo siamo giocati Le frecce Le sparo lì Bam Così almeno ci togliamo Delle palle Anche quella Allora Qui qualche coppicino Gli l'hanno dato Mettiamo Gli orda di scheletri Che vanno a rompere le palle Al domatore loro Che tanto Bene così Principe Cioè Arcieri Che vanno a distruggere Questi pure ragazzi Se arrivano sotto loro E fanno un danno incredibile Vai 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 Bello Bravi Bravi scheletrini Guarda che belli scheletrini Guardalo Guarda i danni Guarda i danni Gli arcieri ragazzi Sono una carta È una carta potentissima Gli arcieri Io non gli davo un sordo De fiducia Ma invece Madonna mia Allora Apriamo Domatore Buscaiolo E ci mettiamo Anche Ok Vabbè Questa Abbiamo veramente Massacrata Con la torre Dagli un paio di colpi Giusto per vedere Madonna Guarda il danno Madonna il danno Fa schifo Quella carta Fa un danno Incredibile Ma dai Leva su sto coso Che ci ha rotto Già quasi tre quarti Della minchia Proprio Ma va va Vecca Gher Vecca Gher Questa ragazzi Ce la dovremmo fare Sicuramente Non è sicura come cosa Ma ce la dovremmo fare Vai vai Scheletrini Massacrate Il totos Golem di ghiaccio Perché lo voglio provare Non so che senso ha Ah ok Perché il golem È vero Quando esplode Poi lancia Diciamo La gelo Quindi congela Quello che gli sta vicino Vai con le frecce Perché si sono fermati Sti maledetti Ma che succede Perché si sono fermati Ok allora Siamo in vantaggio Siamo in vantaggio Però Non dobbiamo abbassare la guardia Direi di fare di questo Ok lui ci lancia quelli Quindi aspettiamo un attimino Perché lui ci sta lanciando Sta robetta E noi glielo andiamo a massacrare Con i nostri arcieri Con le nostre Questi No rimangono in vita questi Meno male Quindi vai Il danno è minimo Attacchiamo noi Vai Bam Vai così Anche se muore Ok ci lancia la cosa Intanto quella là sotto Ci è arrivato Ma grandissimi Ma va bene ragazzi Tanto noi siamo in vantaggio Quindi Siamo noi quelli che deve Cioè è lui quello che deve attaccare Non sono io ragazzi Non sono io quello che deve attaccare Quindi bam E bam Proviamoci eh Ah lui è vero Se ne va proprio da un'altra parte Cioè non ci caga proprio Va bene Ok Non c'è un po' cagato Però intanto Quello che abbiamo Così Vai perfetto Non trovo che buttiamo giù Anche quella ragà Vai ci proviamo Ok abbiamo vinto Anche se quella d'ora Adesso secondo me L'avevo buttata giù Però una partita vinta Anche per noi E ci rimendiamo Le 30 coppe Che prima abbiamo Probabilmente perso Ok Questo ce l'apriamo subito Senza aspettare le 8 ore Vediamo se ci da Oh ma do una carta Quella nuova ragazzi Aspetta 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 Eccola qua Mi ha dato la carta nuova Eccola qui Dove sta Eccoli qua I barbari scelti Ragazzi Mi fate un deck Anche quei barbari scelti Vediamo un attimino Che esce fuori Dai Voglio un deck Anche con quello Che la prossima domenica Vi porto anche quello lì Vediamo un attimino Terza ed ultima partita di oggi Questo ci fa un bel sorrisino Ciao carissimo Anche per ragazzi Noi siamo a livello 11 Quindi facciamo molto più danno Alle truppe E Preventa a tutto Facciamo molto più danno Quindi sta cosa è molto positiva Però appunto La gente Eh ma gioca tu Che carte che c'hai A livello 11 Tu resti sta minimo A 5.000 coppe Ma dove si sta A 1.800 coppe E io vi dico Au Asti cazzi Ci li metti Ecco ci li metto io Non vi preoccupate Non vi preoccupate Che ci li metto io Questo se arriva Se arriva il boscagione Da sotto So danni Se arriva il boscagione Da sotto So danni Pammate Sblenfate Sblabubta Eh lo so Non ti incazzami come io Perché tu hai fatto una Guarda madonna Il boscagione Quanto ti amo Bello del zio Torna pure indietro Pistallo de botte Bello come il sole Bravo come Goku Così non lo so Perché raga Ma lanciamo il mondo Lanciamo il mondo Ok Quindi i nostri arcieri Sono belli iperpotenti Che vanno lì Noi ci Rilassiamo E ci prendiamo Il nostro elisir Che ci serve Tantissimo Intanto gli arcieri Un colpicino Ogni tanto Glielo tirano Quindi per noi Va benissimo Oh Un po' di danno Glielo abbiamo fatto Quindi adesso Direi di fare Così Lo facciamo Partire da dietro Sto con le metichiaccia Proprio così a random Poi facciamo partire Ok Lui ci butta quello Quindi questa e questa Subitissimo Bella combo Subito scheriti ragazzi Perché proprio Lo voglio massacrare Vai Così almeno arriva Tutto quanto qui Anche seconda torre Stradistrutta In un modo incredibile Buono 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 ragazzi Buono 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 Anche qua Facciamo il danno Vai Perfetto Signori Perfetto Pensate che quella torre Pensate che quella torre S è arrivata A capoligna Quasi No Non è ancora arrivata A capoligna Ma poco ci manca Poco ci manca Ragazzi Dai Questa pure è stata Una bellissima partita Leghiamo le frecce Gli tolgo subito Quello No Vabbè Non glielo tolgo Ma praticamente è quasi morto Abbasta Il nostro boscaiolo Che va lì Quindi facciamo Boscaiolo E questo E te saluta Amico Ci ha detto No guarda Guarda Intanto provo ancora A competere Continua Ma Morto 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 Signori Morto Tremendamente ucciso Proprio Signori miei No non ti incazzare Però stai calmo Che fortuna Quale fortuna Vaffanculo Ma è cazzo La bestione Signori Due partite vinte Una sconfitta Ci può stare Ci può stare Assolutamente Questo deck Ragazzi Sai vi dico la verità Questo deck mi piace Me lo tengo buone Me lo sa Questo deck mi piace Mi ci prendo la mano Me lo tengo Quindi ho questo buono Quest'altro buono E adesso qua andrò a mettere Un altro deck Che mi consigliate voi Lo useremo la prossima volta Signori Questo video è giunto a termine Ovviamente Instagram Shop online Tutte in descrizione Ci vediamo con un prossimo Apportamento Quest'oggi Alle 14 E poi alle 19 Non mancate Bella signori